C'era una volta un politico piccolo piccolo che tutti davano sempre per morto ma regolarmente risorgeva dalle sue ceneri. Montanelli lo chiamava il rieccolo, era a Mintore Fanfani. Poi è arrivato un altro che almeno per la statura gli assomiglia un po', anche se lui l'altro giorno ha detto che da giovane era un centravanti molto alto, 1,71, poi era impicciolito con l'età. Nel 94 la prima volta doveva perdere di sicuro contro la gioiosa macchina da guerra di Occhetto. La sinistra furba rideva di lui e diceva che la tv non porta voti, infatti lui occupò le tv e vinse le elezioni. Il suo primo governo cadde dopo sette mesi e tutti lo diedero subito per morto. Faceva talmente pena che la sinistra furba appena andò al governo decise di dialogare con lui sulla giustizia e la costituzione in bicamerale per non irritarlo. Non fece l'antitraste e la legge sul conflitto di interessi. Poi la sinistra furba si è mangiata a quattro governi in cinque anni e alla fine lui ha fatto saltare la bicamerale. E ha stravinto le elezioni nel 2001. Montanelli profetizzò ci vuole il vaccino, dobbiamo sorbircelo per dieci anni e poi ci immunizziamo dal vaiolo. Lui infatti ha governato così male che la sinistra ha vinto tutte le elezioni intermedie, provinciali, regionali, comunali e europee. A dicembre 2005, a cinque mesi dalle elezioni del 2006, la sinistra aveva 15 punti di vantaggio. La Montanelli aveva sottovalutato l'antidoto al vaccino, che è la sinistra, che è infallibile a neutralizzare immediatamente gli effetti del vaccino. Infatti siccome il Cavaliere era dato per morto, la sinistra furba iniziò a buttare voti per evitare una vittoria schiacciante. Prima pensò bene di farsi una banca, la BNL, di farsi pure beccare, così il distacco scese da 15 a 5 punti. Poi perse anche quei 5 punti con una campagna elettorale in cui si parlava solo di tasse. Così ci fu il pareggio al Senato e il povero Prodi si fece due anni di agonia, finché Mastella, astutissimamente nominato ministro della giustizia, gli staccò la spina. Altri 4 anni di Berlusconi, poi nel 2001, lo ammazzano le 3 F, Fini, Finanza e la terza F, diciamo Rubi, per capirci. Siccome era morto, gli strateghi della sinistra furba, della politana in giù, hanno deciso di non mandarci a votare subito, ma di dare agli italiani un annetto di tempo per dimenticarsi i disastri suoi, tanto è morto. E lui lo faceva il morto, benissimo tra l'altro. Il PDL ha votato tutto quello che decideva Monti, IMU compresa, ma lui non ci metteva mai la faccia. Sparito dalle tv, inabissato, in attesa di poter dire che lui non c'era. Se c'era, era in Kenya, un briatore e se fosse stato per lui mai avrebbe approvato tutte quelle tasse. E poi, al momento buono, è ricicciato fuori il rieccolo, ma la sinistra furba mica pensa a lui, ha ben altro a cui badare. Tipo spartirsi i ministeri del suo futuro governo. Qualche mese fa il Foglio ha pubblicato un pizzino, dimenticato in Parlamento da uno dei furbi, con l'organigramma del regno del centro-sinistra prossimo venturo. C'era scritto Bersani, premier più economia, Bindi, vicepremier, Veltroni, camera, dalle maestri commissari Ue, una delle due naturalmente, letta, sviluppo, Franceschini, segretario. Quando poi Bersani ha battuto Renzi alle primarie, ha annunciato adesso arriva lo squadrone, che ricordava vagamente quella macchina da guerra, infatti i più religiosi si sono segnati e i più laici si sono toccati. Quando si dice vendere la pelle dell'orso, non solo prima di averlo ucciso, ma prima di aver preso il porto d'armi e di aver comprato il fucile. Poi all'improvviso hanno guardato i sondaggi e hanno scoperto che c'è di nuovo lui. Cioè che il 40% di italiani che 5 anni fa lo votavano non possono essere spariti all'improvviso. È risolto un'altra volta, o forse non era morto, o forse i vivi sono più vivi, sono più morti del morto. Qualcuno si ricorda una cosa detta da Bersani in tutta questa campagna elettorale, a parte che vuole sbranare quelli che lo accusano per Monte dei Paschi? Buio fitto. Magari dice anche delle cose serie e sensate, ma non lascia mai il segno, non buca, perché non parla, biascica, sembra una pentola di fagioli in ebollizione. Sto paese qua, non si amica qua, un po' di soldi qua, sto coso lì, non finisce mai una frase. Parla di alleanze continuamente, una volta dichiara amore eterno avendola, una volta fa il patto con Monti. è sempre tutto un'alleanza, convergenza, insomma politichese. Naturalmente tutti invece si ricordano tutto di quello che dice Grillo, qualcosa si ricordano di Ingroia, qualcosina persino di Monti, quasi tutto si ricordano di Berlusconi, che per quanto morto è riuscito a tornare al centro della scena costringendo tutti gli altri a parlare di lui. Lui fa la lepre e gli altri fanno i calciatori, è vero che racconta un sacco di balle, naturalmente, ma non è che gli altri non ne raccontino, intendiamoci. Il fatto è che se si fa il campionato dei ballisti, è ovvio, vince lui, perché non solo le spara più grosse, ma le sa raccontare pure meglio. Anche Bersani ha detto che gli F35 bisogna tagliarli, e poi Monti gli ha ricordato, guarda che il percorso degli F35 è cominciato col centro-sinistra. Anche Monti ha detto ridurremo subito le tasse, ma un mese prima aveva detto che era impossibile ridurre le tasse, e poi danno del pallista a Berlusconi, il quale oltretutto di balle ne racconta molte di più. E mentre loro faticosamente gliene smontano una, lui nel frattempo si è già portato avanti e ne ha già raccontate altre dieci. Quindi è fatto così. Come dice Vergasso, la mente sapendo di smentire, dice tutto è il contrario di tutto, perché così prende i voti sia di quelli che credono a tutto, sia di quelli che credono al contrario di tutto, e costringe gli altri a riprenderlo. Quando ha detto restituisco l'Imu in contanti, proprio la Gioniere Spinelli con le buste arriva, Repubblica ha titolato in prima pagina Berlusconi restituirò l'Imu. Ed è giusto che sia così, i giornali devono riprendere quello che dicono i politici, e se poi non è vero smentirlo. Anche noi, quando è venuto qua in questo studio, gli abbiamo smontato in diretta le balle sul Limo, e quelle sul complotto delle banche tedesche, ma il giorno dopo Repubblica e Saviano hanno detto che avremmo dovuto proprio ignorarlo. E allora perché non lo ignorano anche loro? Si rendono conto che è impossibile ignorare un protagonista. Quello che stona in questa campagna elettorale non è che Berlusconi sta dappertutto e parla dappertutto e parla dappertutto. Perché? Perché l'ha sempre fatto e poi perché anche gli altri hanno le loro televisioni, insomma vanno anche loro dappertutto. Il problema è che quando parlano gli altri di solito non lasciano segni tangibili. Se invece di ridere o indignarsi per le sue bugie, lo sfidassero con delle proposte chiare, semplici, popolare, provando una volta tanto a fare le lepri anziché i cacciatori, magari invertirebbero il trend e dire che hanno delle praterie davanti. Non so, potrebbero fare una bella proposta legge e ordine per mandare in galera i vasori, i corrotti, i concursori, i falsificatori di bilanci, amici dei mafiosi, oppure una bella proposta per un taglio netto ai costi della casta di cui non parla più nessuno, tranne il solito grill. Invece balbettano, ci incischiano perché? Perché se no di qua si sfila vendola, di là si sfila monti, in centro si irrita Casini, noto trascinatore di folle, e c'è pure il rischio che magari in groia sia d'accordo che è il timore peggiore che hanno. L'altro giorno è uscito un manuale del perfetto candidato del PD con le rispostine precotte da dare nel caso che un giornalista faccia domande. È una robina, un po' un brodino. Ecco, per esempio sulla corruzione e l'evasione sono riusciti a scrivere 5 righe, 5 di pure banalità. Sulla riforma a Fornero, sentite cosa devono rispondere i candidati. Noi non intendiamo toccare la riforma dell'articolo 18 nella formulazione alla tedesca, che è un'ottima risposta per le elezioni in Germania, ma si vota in Italia, l'hanno capito o non lo sanno? L'ha ammesso persino D'Alema. La campagna elettorale è iniziata male, abbiamo avuto l'impressione di aver già vinto, pensavamo a chi fa il ministro e il sottosegretario, e mentre eravamo impegnati in questo dibattito inquietante che porta pure male, Berlusconi ha recuperato 8 punti. Sottovalutarlo è un errore che abbiamo già fatto e che non dobbiamo ripetere. Diamoci una mossa e proprio adesso che D'Alema comincia a capire non lo candidano, ma allora vuol proprio dire suicidio. Intanto gli elettori, poveri martiri, assistono a questo spettacolo senza avere la più pallida idea di che cosa il centrosinistra vuole fare al governo e nemmeno con chi vuole fare questo benedetto governo. Non hanno ancora nemmeno capito se Vendole è un alleato fino al 26 febbraio e poi dal 27 arrivano Monti, Casini e Fini. Nel 1976 Montanelli lanciò il famoso slogan Turatevi il naso e votate DC. Adesso quello slogan è superato da un altro, molto più moderno e anche più riformista. Bendatevi gli occhi e votate PD.